Infiltrazioni e muffa negli appartamenti, perdite d'acqua negli scantinati e nei box auto. I residenti degli alloggi popolari di via di Vittorio a Baiano sono sul piede di guerra. Nonostante le case siano state costruite solo un decennio fa, ogni giorno gli inquilini sono costretti a fare i conti con disagi e problemi. Sentite cosa ci raccontano. Il problema è sotto il soffitto, vede? Adesso è così, però in inverno quella macchia nera che vede proprio all'angolo, cioè all'insenatura, diventa sempre più grande. Sta facendo le muffe, che pure l'abbiamo detto a loro ACP, e loro non provvedono a venire perché fanno queste muffe. Pure nella cameretta di mio figlio. L'Istituto Autonomo Case Popolari qualche giorno fa ha trasmesso ai residenti degli alloggi di via di Vittorio una comunicazione con la quale si annuncia un aumento sull'affitto per far fronte alla manutenzione dell'ascensore, un ulteriore fardello economico contestato aspramente dagli inquilini. Ci stiamo lamentando un po' tutti di questa cosa perché comunque non siamo stati avvisati di questa problematica. Ci avevano detto che avremmo pagato qualcosina sull'ascensore, ma non fino a questo punto, cioè proprio a farci un salasso vero e proprio nelle nostre tasche. Quindi mi converrebbe andare a dormire nel mio ascensore, che sarà il mio nuovo appartamento. Non vengono a fare dei lavori qua, però vengono tolti delle spezie.